Teledurruti, una televisione monolocale, la vedi questa ragazza, questa donna? Io ne sono stato innamorato, era il 1989, 89. Ieri. No, ieri, ieri, 89, era 89. Possibile. Si chiama Marta. Ma oggi porta l'apparecchio. Però ti sta bene. Etrusca. E io ero travolto dalla sua bellezza etrusca. Ma per favore, l'ho già detto in altre occasioni, ma hai fatto piangere. Non è vero. Comunque, a parte queste cose, la bellezza etrusca qual è? Il taglio degli occhi. La bellezza etrusca, quella dei ponti. Cosa i ponti? I ponti. Cioè? Li facciamolo dal capo. No, no, li facciamolo dal capo. La bellezza etrusca. Vedi che è un mondo convinto di sdoppi sensi. Che sono i ponti? Ma i ponti, l'ingegneria. Ah no, la bellezza etrusca somatica intendo io. Vabbè, ci sarà capito. Era il 1989 e io ero tragicamente innamorato di questa mente. No, davvero, poi mi... Però non ho raccontato come t'ho incontrato e come t'ho visto la prima volta. Con il mantello. Non avevo il mantello. Allora racconterò di quando sei venuto a conoscere i miei genitori. Lungo la strada per Civita Castellana ci fermiamo ad un certo punto. Anzi, prima voleva a tutti i costi sapere il menù perché senza sapere il menù non sarebbe venuto a pranzo dai miei genitori. Ma questo non me lo ricordo. Ve lo ricordo io. Allora abbiamo dovuto telefonare fermandoci a un'edicola, una cosa, per telefonare a mia madre e mia madre ha risposto. I ravioli. Allora lui ha detto benissimo, andiamo. Che si proceda per la strada. Io non li mangi i ravioli. Allora non erano ravioli. Allora erano forse i cannelloni. I cannelloni sì. I cannelloni. Poi ci fermiamo in un'edicola e lui dice benissimo, adesso devo comprare qualcosa per tua madre e tuo padre. E io ho pensato ma chi comprerà all'edicola? Non so, forse un cioccolato, del cioccolato così. Esce fuori e ci aveva qui alla vita legata una spadina di plastica. Una spadina di plastica messa qui a tutto vita e si è presentato dai miei genitori scendendo dalla macchina la prima volta che lo vedevano e dicendo eccomi qua e sfoderando la spada di plastica. Un cretino. I miei non hanno mai commentato. Grazie Marta. Madonna eccezionale. Baci a Teleturruti. Viva la vita, viva la libertà.